Uno dei più noti atleti di pallacanestro del Sud America, Orazio Lopez, che ha militato anche in Italia in Serie A con la Juve Caserta, è tornato ad Oratino per conoscere i luoghi da cui partirono a fine 800 i suoi bisnonni per l'Uruguay. Ha voluto ritrovare le sue origini l'uruguaiano Orazio Tato Lopez, tra i migliori giocatori sudamericani negli anni tra gli 80 e i 90. Oggi Tato è uno stimato scrittore ed un riconosciuto operatore sociale che si è messo a disposizione della comunità del suo paese. Ha militato anche nella Serie A italiana di basket, tra le fila della Juve Caserta, una squadra del Sud che ha avuto alcune stagioni di grande notorietà in Italia e in Europa. Oggi è tornato nel luogo delle sue origini, Oratino, da dove partirono i suoi bisnonni verso la fine dell'Ottocento per stabilirsi in Uruguay. Tu sei venuto per cercare le tue origini, che cosa hai trovato? Hai stato accolto benissimo, in pochi giorni hai conosciuto la maggior parte delle persone, tra l'altro tante che hanno lo stesso cognome di tua nonna. Quindi c'è stata una vicinanza sicuramente molto importante. Che cosa ti lascia questa esperienza? È un'esperienza emozionalmente molto forte perché mia nonna mai parlava dei suoi genitori, quelli che sono andati da Oratino per il mio paese, per l'Uruguay. E soprattutto il mio bisnonno, che era Scalpellino, che ha lavorato come Scalpellino in Uruguay, lui ha uscito da un paese di artisti. Mai abbiamo pensato a quello, nessuno sa queste cose, perché loro non hanno parlato mai di quello della vita in Italia. Loro sono andati là e quello che hanno lasciato qui è come che tutto quello è finito e hanno ricominciato un'altra vita. Però adesso io trovo che da dove sono venuti i miei bisnonni era una terra di artisti e questa cultura è una cultura che ha 400, 500, 600 anni. Tutto quello è nuovo, tutto quello complimenta la mia visione, il mio intendimento che è sempre stato più emozionale che di informazione del mondo della mia nonna.